Purtroppo le notizie che arrivano dal Veneto non sono incoraggianti, conosciamo tutti la storia di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta che sono da qualche giorno irreveribili, pochi minuti fa gli investigatori hanno rinvenuto un video di telecamera di sorveglianza in cui si vede distintamente Turetta aggredire Giulia e ahimè si teme purtroppo un esito negativo delle ricerche che stanno continuando in questi minuti sono proprio in questi attimi stanno perquisendo di nuovo la casa di Filippo Turetta che è stato iscritto nel registro degli indagati. Intanto mi dicono che ci sono degli aggiornamenti da parte di Carlotta Ricci Renews24, Carlotta a te. Sì buonasera, ebbene gli aggiornamenti più importanti della giornata sono effettivamente questi. Intanto l'iscrizione nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di tentato omicidio da parte della procura di Venezia per Filippo Turetta. In una nota la procura ha scritto che si tratta di una iscrizione anche a garanzia dell'indagato e per poter procedere con degli accertamenti indifferibili. Ci si riferisce probabilmente agli esami del DNA perché questo video di cui si attendeva il contenuto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di questa importantissima azienda di moda che si trova a pochissimi chilometri da qui a Fossò. Noi ci troviamo davanti alla casa di Giulia Vigonovo. Ebbene è lo stesso posto dove sono state trovate la domenica mattina, quindi la mattina successiva alla scomparsa delle grosse chiazze di sangue. Sono state repertate anche, sarebbero state trovate accanto a queste chiazze di sangue anche dei capelli e del nastro adesivo. Tutto questo materiale ovviamente dovrà essere analizzato, confrontato con il DNA per poter essere poi attribuito. Non si hanno ancora gli esiti di queste analisi, però sono pezzi di un puzzle che si va ricomponendo e che si fa sempre più preoccupante nonostante la famiglia speri ancora, perché poco fa per voce dell'avvocato ci ha detto che l'ipotesi di tentato, omicidio, è comunque qualcosa che lascia delle speranze ancora aperte. Carlotta, questa mattina io stavo seguendo dal trucco Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele e Eleonora a un certo punto ha dato la parola alla sorella e a me ha molto colpito perché la sorella ha detto, mia sorella aveva paura di Filippo, cioè sono due ragazzini, due fidanzati, lei si sarebbe laureata giovedì, mi ha molto colpito perché una ragazza fidanzata deve avere paura di un altro ragazzino, suo fidanzatino, cioè non va bene, le speranze davvero qui sono pochissime. Si vanno fievolendo, è ovvio che nei primi giorni le famiglie, anche quella di Filippo hanno fatto proprio da qua un appello congiunto rivolgendosi a Filippo perché riportasse a casa Giulia, è ovvio che poi il senso di realtà si impone e quindi si vanno affievolendo le speranze. Anche le ricerche, perché sono in corso, ricerche veramente imponenti in più province fino all'Alto Adige, Trentino, Alto Veneto, Brenta, Naviglio del Brenta, su quello che si sta cercando dentro il naviglio del Brenta, insomma, farebbe pensare che il sospetto e che purtroppo le speranze siano, ahimè, mal riposte. Carlotta, ascoltiamo un attimo la sorella di Giulia, hanno ripreso il momento. Allora Elena, vedo che volevi parlare, volevi intervenire forse su questo argomento, quanto sta dicendo Alba. Elena voleva aggiungere un aneddoto che ci dovrebbe essere verificato successivamente alla rottura di agosto, chiaramente è sempre una voce, ottenuta diciamo una verità conosciuta tramite le amiche che l'hanno poi raccontato e riferito recentemente a Elena che in qualche modo va a raccontare nuovamente come Filippo abbia subito e vissuto la seconda rottura di agosto. Sì, allora c'è questo episodio che mi è stato riferito, che praticamente dovevano trovarsi con il gruppo dell'università, penso ad una certa ora, però dati gli orari dell'autobus Giulia avrebbe avuto bisogno di andare a Padova prima e quindi fare delle commissioni, occupare il tempo facendo delle commissioni. Filippo le aveva detto vuoi che venga con te e lei ha detto no, guarda preferisco stare da sola, fare le mie cose da sola e poi ci vediamo insieme con tutti gli altri amici. Per poi arrivare a Padova, scendere dall'autobus e ritrovarselo in fermata dell'autobus. Quindi lui aveva di sua spontanea volontà deciso di presentarsi nonostante lei gli avesse chiesto di rimanere da sola nel luogo in cui lei poi avrebbe dovuto appunto andare. Sì, quindi insomma è stato questo fatto che della sua presenza non richiesta e del suo non rispettare magari un qualcosa che Giulia aveva chiesto. Ecco, Carlo. Beh, la disperazione di questa famiglia ti dà il senso esatto che quando poi accadono queste cose non sono soltanto a morire i protagonisti, ma si lascia una scia di dolore che investe tutti. Abbiamo visto la famiglia di Giulia, ecco vorrei chiedere a Carlotta, ma la famiglia di Filippo ha detto qualcosa, ha fatto qualcosa? Tra l'altro Carlotta è davanti alla casa di Giulia. Sì, esatto. La famiglia, mi chiedo, scusa, la famiglia di Giulia o la famiglia di Filippo? No, la famiglia di Filippo, cioè mi chiedo perché alla fine stiamo cercando due ragazzini, Filippo e Giulia, quindi la vita di due ragazzi. Esatto, esatto. Perché nessuno parla di Filippo? Come mai i genitori di Filippo non, cioè magari ci siamo persi qualcosa, Carlotta lo chiediamo a te. No, in realtà stanno rilasciando interviste e dichiarazioni. Oggi, nel giorno della iscrizione del registro degli indagati, sono irreperibili. No, nei giorni scorsi hanno parlato e lunedì stesso sono venuti proprio qui, hanno fatto una sorta di punto stampa congiunto insieme ai genitori di Giulia, anche loro hanno rivolto il loro appello al figlio affinché tornasse a casa, riportasse a casa Giulia e anche ieri hanno rilasciato interviste, ovviamente difendendo la figura di Filippo dicendo che non va dipinto come un mostro, non va dipinto diciamo come si sta, piano piano delineando questa figura di ragazzo molto introverso, molto insicuro e che pressava Giulia, si è parlato anche di controllo del cellulare, a un certo punto si è detto che lui non fosse felice della laurea di lei perché poteva rappresentare veramente il momento di rottura del rapporto definitivo di un suo eventuale allontanamento. In realtà questa ipotesi è una delle tante che la famiglia di Giulia prende in considerazione perché ci hanno detto le pensi veramente tutte, però certo che il giorno della laurea è un momento veramente importante anche perché forse, forse sembra che Giulia volesse trasferirsi a Reggio Emilia per seguire un altro corso dopo la sua laurea in ingegneria biomedica. Filippo negli ultimi tempi aveva dato segnali di malessere, sembra che avesse smesso di mangiare da quando c'era stata questa rottura e comunque anche le amiche di Giulia ci raccontano che lui non rinunciava alla speranza di tornare insieme mentre Giulia era molto più decisa, dritta per la sua strada. Carlotta, noi ti ringraziamo, dopo ci sarà la vita in diretta per tutti gli aggiornamenti con Alberto Matano. Grazie Carlotta, grazie Carlo Pucca e parlare di questo, proprio quando prima ho raccontato la storia di Elisabeth che invece il giorno della laurea l'ha visto, l'ha vissuto e dopo anni e anni e anni, dove hai dovuto fare i conti con quello che era successo, mi scuote molto, mi scuote molto perché vediamo il prima, vediamo il dopo e quello che vorremmo tutti noi ovviamente è rivedere Giulia e Filippo tornare fisicamente insieme vivi, ma pare che questo... Molto difficile però non bisogna mai perdere la speranza, anche perché poi la laurea è proprio il giorno di costruzione della vita, dell'edà adulta, no? E quindi finire proprio nei giorni in cui stai diventando adulto è tremendo. Grazie. Grazie.